In questo video voglio mostrarti gli strumenti che devi avere per creare un sistema di funnel marketing efficace per la tua attività. Allora, sono tante lettorie, sono tanti video inerenti ai sistemi di marketing che avrai sicuramente visto da tante persone. Il problema però qual è? Ok, ho la ricetta, ma se non ho le pentole, come posso cucinare con la ricetta? Il più bravo chef al mondo, se non ha i fuochi, se non ha le pentole, se non ha gli strumenti, non può mettere in pratica una ricetta efficace. Quindi la teoria rimane teoria ed è questo uno dei più grandi ostacoli che hanno le persone che apprendono idee di marketing efficaci ma poi non hanno gli strumenti per poterle mettere in pratica. Bene, qui ti voglio mostrare in modo molto semplice quelli che sono gli strumenti che puoi avere. Quello che ti consiglio è questi quattro elementi fondamentalmente per partire chiaramente di base. Il primo è ClickFunnels. Lo puoi trovare su funnelcompany.com slash clickfunnels oppure su funnelpro.it. Bene, questo strumento ti permette di avere tutti i funnel del mondo, ti permette di poter integrare i sistemi di pagamento con Stripe o con Paypal, ti permette di creare membership, ti permette di creare siti. Insomma, quando hai questo strumento hai fondamentalmente quasi tutto quello che ti serve per creare le pagine, cioè gli elementi di visibilità per i tuoi utenti. Costa 97 dollari al mese, quindi siamo intorno alle 93-92 euro al mese e hai veramente tanto. Una volta che hai imparato quello sei veramente libero da ogni web company, da ogni web agency, da ogni programmatore. ClickFunnels se lo prendi da questo link qua avrai il corso in italiano gratuitamente, quindi magari puoi cogliere l'attenzione. Il secondo elemento è ActiveCampaign. La combinanza di questi due elementi ci permette di avere le pagine web e le email di connessione dei nostri funnel. ActiveCampaign è un ottimo strumento che permette tantissime automazioni, parte da 9 dollari al mese e cresce in base al database che ti cresce. Quindi più cresce il tuo business, più cresce l'investimento, ma non diventerà più un problema perché hai già le entrate del tuo business. Gli altri elementi che ti servono sono gratuiti, fondamentalmente sono WordPress per il blog ed è i social, i canali su cui vuoi comunicare. Con questi quattro elementi vai a costruire la tua macchina sulla quale poi cos'è che dovrai fare? Dovrai chiaramente pagare la benzina. La benzina cos'è? La pubblicità su Facebook Ads, su Google AdWords o dovunque vuoi per chiaramente far camminare la tua macchina. Ma come vedi non è che occorrono chissà quali strumenti a dover applicare. Ricordati che la grande libertà di creare i funnel attraverso la funnel marketing formula e quindi diventare un funnel marketing manager o comunque un funnel marketer è proprio questa. Essere autonomo, libero nel avere delle idee, saperle come lanciare e avere gli strumenti per lanciarli. Quando hai questi tre elementi credimi che nessuno ti può più fermare e vedrai funnel dappertutto. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale e lascia il tuo commento. Se invece vuoi maggiori informazioni vai su funnelcompany.com Ciao e al prossimo video!